che hanno seminato guerre e distruzioni. Chi sono i frenatori della storia? Commento. Per la mente, i frenatori della storia sono quelli che hanno seminato guerre e distruzioni, che sono chiamati anche anticristi. Per la coscienza, i frenatori della storia non sono mai esistiti, perché nello scorrere perfetto, perché divino, delle vicende umane non è entrato mai chi ha ostacolato la legge d'evoluzione.